Massimo Zai, consigliere comunale di Carbonia Possibile. Oggi avete presentato un'interpellanza e una mozione molto importante per il comune di Carbonia. La mozione è stata respinta. Di che cosa si tratta? La mozione verteva sul problema dell'ufficio cimiteriale, dello spostamento dell'ufficio cimiteriale come l'intenzione di questa amministrazione. Noi abbiamo contestato questa possibilità perché siamo sicuri che sia un disservizio nei confronti dei cittadini. L'amministrazione asserisce il contrario, parla di presunti risparmi ma che secondo noi non ha nessuna logica. Secondo noi invece stanno eliminando un servizio al cittadino. Siamo in compagnia di Paolo Argiolas, assessore agli affari generali del comune di Carbonia. Oggi l'amministrazione ha bocciato la mozione presentata dall'opposizione per quanto riguarda lo spostamento degli uffici cimiteriali. Per quale motivo? All'opposizione loro ritengono che sia un'azione sbagliata in quanto questo servizio sarebbe di primaria importanza per i cittadini. Ma in effetti è un servizio che è prettamente amministrativo. Il fatto di una linea di riorganizzazione di tutti i servizi ritengo che l'amministrazione ritiene di doverlo spostare in una nuova sede in modo tale che ci possa essere un'omogeneità di servizi che dovrebbero essere più consoni alla fruibilità da parte dei cittadini. Quindi non si capisce la loro opposizione. Io ho spiegato, ho dato tutte le spiegazioni che ho ritenuto più opportune, però continuano a non capire. Quindi non ci posso fare niente in effetti. Però questo trasferimento si inserisce appunto in un'ottica di riorganizzazione e di maggiore efficienza anche per l'amministrazione e per tutti i cittadini. Grazie. Grazie.